Pizzeria Puglia E' un impasto indiretto con metodo pulish Ho fatto fermentazione a 12 ore con il 2% di lievito Poi ho rimpastato il tutto con un altro 0,4% di lievito Un'idratazione del 70% e niente, è basta Per il lievito che lievito? Lievito di birra Temperatura ambiente o? Tutta la temperatura ambiente Sono 12 ore di fermentazione con il pulish e 12 ore di fermentazione dell'impasto Temperatura ambiente? Per quanto riguarda il pulish le prime 3 ore a 23-24 gradi Poi siamo scesi intorno ai 21 Per quanto riguarda l'impasto anche 21-24 Grazie Mi ripetiti gli ingredienti? Sono carciofini del Salento E infatti tu le... No, sono di un'azienda salentina che fa tutte queste robe salentine I lampaccioni sono della stessa azienda Capocollo martinese ed hop E il grano che ho usato, il grano antico è il Mallorca Ok, grazie Donato, giusto? Sì Donato, la mozzarella? Mozzarella fior di latte di Martina Prana 100% fior di latte? No, 100% fior di latte Se la senti un po' più dura è perché la metto a scolare Perché? Perché se no mi caccia troppa acqua sulla pizza e non voglio che sia acquosa E per quanto riguarda invece l'impasto? Sì Che percentuale di sale hai utilizzato? Il 3% 3% Ok, il forno l'hai trovato a temperatura? Era basso? Era alto? No, forse un po' basso Io poi sono abituato con il forno a legno e quindi sono per le temperature più alte Ok, va bene, grazie Grazie a voi Grazie